Ciao! Questa è la mia morning routine con Dermolab. Io sono Gabriela e come tutte le mattine suona la sveglia. Cosa faccio? La spengo, mi stiracchio un po' e poi mi butto subito in doccia. E appena esco parto subito con la mia morning routine. Per un risveglio epidermico perfetto uso il gel detergente idratante viso con acido ialuronico che idrata la pelle pulendola. Ne metto una piccola quantità sulle mani, lo massaggio e lo applico sul viso bagnato, così, massaggiandolo. Quando sento che il viso è pulito sciacquo tutto con acqua tiepida. Subito dopo passo al secondo step, con il tonico anti-tap per rinfrescare e rivitalizzare il viso. Basta metterne una piccola quantità di prodotto su un dischetto di cotone e tamponarlo delicatamente sul viso, collo e decoltè. Così il viso sarà pronto per assorbire meglio tutti i passaggi successivi. Perfetto anche per le pelli meno mature, perché distende le rughe di stanchezza grazie al pool di acidi ialuronici multilevello. E come terzo passaggio stendo il siero concentrato anti-età con acido ialuronico. Un siero rimpolpante ideale per le pelle immature, ma può essere utilizzato anche da pelli non mature come la mia, come prevenzione delle rughe o anche per i cicli di coccole speciali, come per esempio i cambi di stagione. Si assorbe subito così siamo pronte per il passaggio successivo e anche questo va steso sul viso, sul collo e sul decoltè. E adesso siamo subito pronte per il gel anti-rughe contorno occhi, borse e occhiaie. Ne prendo una piccola quantità e lo stendo sulle borse e nella parte superiore degli occhi e per un effetto filler anche sulle zampe di gallina. E ora la regina della skin care routine, la crema anti-rughe giorno per il viso. Ne basta una piccola quantità per un effetto riempitivo delle rughe, grazie al pool di acidi ialuronici. La stendo sul viso, sul collo e sul decoltè. Non è grassa e si assorbe subito, così posso immediatamente passare al trucco. E così in pochi passaggi la mia morning routine è completata e quando vado di fretta oppure in palestra uso sempre le comodissime salviettine struccanti all'acqua micellare, perfette per il viso e per gli occhi, per struccare, detergere, lenire, rinfrescare e tonificare. Ciao!